Cose che fanno i nabbi su Brawl Stars, quindi io non le faccio Stiamo parlando di usare brawler completamente inadatti per una determinata modalità Immaginate di usare Piper ad esempio all'interno della mappa sopravvivenza caverna rumorosa Che è completamente ricoperta di muri Beh, se la usate vuol dire solo due cose O siete dei super pro player che vogliono divertirsi Oppure vi piace perdere coppe Però vabbè, io lo accetto se vi piace perdere coppe Come vi ho già detto, in una mappa con tutti questi muretti è difficile usare Piper Perché non puoi mai portare un colpo a segno O se lo porti a segno l'avversario è praticamente attaccato a te Lo stesso vale se si usa un brawler come il primo oppure Bull in una mappa ampia Che indebolisce di gran lunga il tank in questione Effettivamente dovrebbero creare un tank che spara da lontano Più o meno come Pam Però risulterebbe troppo forte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti